Sono state ritrovate nelle ville in costiera amalfitana dei Boss le pale d'altare rubate nelle chiese aquilane dopo il terremoto. A fare il recupero il comando tutela patrimonio artistico dei carabinieri che ha recuperato ben 37 opere d'arte, c'è anche un dipinto di Guido Reni. Opere trafugate dalle chiese chiuse dopo il sisma che nel 2009 ha devastato l'Aquila. Otto anni dopo erano esposte nei saloni di ville di lusso della costiera amalfitana. Delle tele grandi, pale d'altare, finite nelle mani di mercante d'arte che nel giro di qualche anno le hanno piazzate poi a collezionisti disposti a pagare grandi cifre pur di poter vantare in casa propria opere d'arte di altissimo livello, alcune delle quale anche di dimensioni enormi, anche un dipinto attribuito a Guido Reni. Sono 37 in totale le opere recuperate dai carabinieri del comando tutela patrimonio artistico che hanno svelato tutti retroscena a Salerno dell'attività investigativa che è stata coordinata dal procuratore della Repubblica di Salerno Corrado Lembo e dal comandante del nucleo tutela patrimonio artistico il generale Fabrizio Parrulli. Di particolare importanza cinque pale d'altare del XVII-XVIII secolo saccheggiate da due chiese dell'Aquila e due tavole, parte del politico del XV secolo della chiesa San Rocco di Formia attribuite all'artista Geronimo Stabile risalenti al 1540. Tra le opere c'è anche quella del XVIII secolo, presentazione di Gesù al Tempio, trafugata a Capestrano prima del 2012 e ancora la Madonna del Rosario, trafugata scoppito tra il 2012 e il 2013 e ancora la Madonna con Gesù Bambino, angeli e anime del Purgatorio, trafugata a Capestrano presso la chiesa di San Nicola. Arrivano anche le congratulazioni del sindaco Biondi a nome dell'amministrazione e mi congratulo con l'arma dei carabinieri per l'importante ritrovamento. Sarebbe bello se nella città che si appresta ad ospitare il nucleo di tutela del patrimonio culturale, dice il primo cittadino, vi potessero far ritorno anche le opere d'arte recuperate, affinché tutti possano godere di bellezze che erano state depredate da questa terra e tributare un doveroso omaggio a quanti hanno operato per riportarle a casa.